Si giri con mia, te sciali e chi viva, me scialo pure io, si devi giochia Bene, e come vi avevo preannunciato siamo giunti a conclusione della prima puntata di questa nuova edizione 2012 che è la settima edizione di Si giri con mia A proposito fatemi ringraziare il mio editore Gianfranco Riga, il direttore di rete Salvatore Gaetano Un saluto anche il direttore di produzione Giuseppe Marasco per avermi dato ancora fiducia per questa ennesima edizione di Si giri con mia Siamo alla settima, arriveremo a 700, chi lo sa Intanto devo ringraziare Gianni Porcelli, presidente della Proloco di Caccuri Grazie per tutta l'organizzazione e per tutto quello che avete visto nella puntata dedicata oggi a Caccuri Volevo salutare e ringraziare anche il vice sindaco Abbiamo conosciuto il vice sindaco, due femminucce alla faccia della quota rosa e le quote rosa qui a Caccuri vanno veramente forti Vice sindaco, grazie Io innanzitutto volevo ringraziare te perché con la tua trasmissione fai conoscere un po' i luoghi un po' più appartati diciamo della nostra Calabria Dove ancora tradizioni e cultura vengono mantenuti Sant'Arania è un piccolo paesino di tradizioni e cultura semplice Ancora una piccola isola felice e di questo io ne sono molto orgogliosa Sant'Arania mi piacerebbe che con il tempo continuasse a mantenersi così Veramente Beh ce l'auguriamo tutti Basta un po' di impegno sia da parte degli amministratori Sia da parte dei cittadini che devono un po' collaborare e dare una mano in quelle che sono le varie iniziative che si vanno ad affrontare insomma Certamente da parte dei cittadini c'è sempre stato un modo di collaborazione con me molto stretto Da quando io sono vice sindaco ho trovato in loro veramente un appoggio Anche in situazioni così semplici diciamo come questo museo di arte contadina Mi sono stati molto vicino e mi hanno aiutato loro proprio a reperire questi oggetti Che per fortuna diciamo così ancora tenevano custoditi E' una grande cosa anche perché questo significa che loro sono ancora diciamo stretti alle tradizioni di una volta Infatti c'è molta gente che avrà qualche oggetto di questo tipo qua magari buttato L'avrà pure buttato e dice che ne fa esa cosa vecchia Infatti è così io volevo dire un'altra cosa Inizialmente come diceva Franco questo era un forno Io me lo ricordo da bambina Mi ricordo appena si entra da questa porta c'è un po' l'atmosfera Ho respirato un po' l'atmosfera di una volta Mi ricordo mia nonna a fare il pane E veramente sono cose che ti rimangono Sono forse degli insegnamenti che porti poi avanti nella vita Infatti bene continuiamo a custodire bene a portare avanti a mantenere le nostre tradizioni Intanto in chiusura io volevo ricordarvi che in questa nuova edizione ci saranno delle menzioni speciali Per quanto riguarda il piatto tipico l'artigianato la musica E tutti quelli che sono un po' i contenuti della nostra trasmissione Gli sarà data questa menzione speciale a fine di questo nuovo ciclo di trasmissioni Faremo una puntata speciale in un paese della nostra bella Calabria Dove inviteremo un po' tutti i paesi che hanno partecipato a questa settima edizione Attenzione decideremo noi quale sarà la nostra redazione Deciderà quale sarà la puntata più bella che verrà premiata Un secondo riconoscimento andrà a quel paese che prenderà più voti sul nostro sito internet www.videocalabria.tv Andate su programmi, cliccate su programmi, si giri con mia E mettete mi piace alla puntata che più vi piace al vostro paese Sito collegato alla nostra pagina di Facebook Otto Video Calabria Fan Club Quindi un altro riconoscimento andrà alla puntata che prenderà più voti su internet E allora che dire, grazie Vi lasciamo con un applauso da Caccuri, siamo qui a Santarania Appuntamento a lunedì prossimo, ore 21, replica domenica, ore 14 e 15 Grazie Grazie